ok cerca di essere più morbido possibile più costante chiudimelo ora piano piano senza vedere la mano no vedo la tua mano così che tu le ritiro una volta questa è la GoPro 5? mi abbassi un attimo il sorpasso delle due Ferrari si riesce a fare ah ok perfetto grazie